Buongiorno Stefano, ancora ebbi di felicità per questa bellissima vittoria di ieri, tanto come stai dopo la tua caduta e invece venendo al mercato direi un giudizio sicuramente buono per tutti i movimenti di mercato che sono stati effettuati, ritieni che tutti i reparti ora siano completi oppure mancata forse la ciliegina sulla torta magari con l'arrivo di un difensore centrale che non è arrivato e poi a che punto siamo con i rinnovi di Bertola e Rezza. Innanzitutto buongiorno a tutti, un giorno buono perché veniamo da una partita vinta nel nostro stadio all'ultimo secondo, come siamo abituati a Spezia, all'anima di Spezia. Oggi ci tengo a dire due cose importanti, grazie a tutti della disponibilità, voglio ringraziare i ragazzi per quello che hanno fatto, per quanto riguarda il mercato abbiamo fatto tutto ciò che ci eravamo profissati, mantenere una competitività della squadra importante, non smantellandola ma tenendo il valore tecnico in condivisione col mister, col presidente, con Andrea Gazzoli e abbiamo anche avuto un'opportunità della cessione di RACID che ci garantisce una sostenibilità e una stabilità per quelle che sono le nostre casse societarie perché la Serie B purtroppo non è la Serie A e bisogna anche e soprattutto guardare un equilibrio economico e sportivo. Per quanto riguarda la domanda sul mercato, stiamo in questo momento definendo la cessione anche di Beck, va in una squadra di seconda liga danese in prestito con opzione. Per i rinnovi di Bertola stiamo negoziando con il ragazzo e la gente, abbiamo fatto una proposta abbastanza importante perché noi vogliamo e crediamo nel ragazzo fermamente è un nostro prodotto e vogliamo metterci nelle condizioni di averlo con noi ed essere noi a dargli opportunità di andare in un campionato se non con lo Spezia di Serie A. Il ragazzo si sta dimostrando aperto dal 27 luglio che stiamo parlando con il suo procuratore e penso di un giro di due settimane, adesso la palla passa alla gente e al ragazzo se accettare o meno la nostra proposta, una proposta abbastanza importante per un ragazzo del 2003. Per quanto riguarda Rezza, stiamo discutendo con gli agenti in queste ore, il ragazzo si è messo a completa disposizione della società per rivedere il suo contratto, vediamo la formula se allungare o meno, ma il ragazzo tiene a Spezia, ci ha tenuto a Spezia, ha avuto qualcosa di in Serie A per andare, ma lui è fortemente attaccato alla città, anche con la famiglia, quindi posso dire tranquillamente, si è messo a disposizione della società per venirci incontro nelle situazioni sia economiche che gestionali. Per il difensore centrale? Il difensore centrale, in questo momento col Ministro abbiamo valutato che non ci sia forse necessità, in quanto abbiamo Wisniewski, Ristov, Bertola, Mattei, Vignali che può farlo, e poi abbiamo i nostri benvenuti Giorgeschi, dobbiamo lavorare sui nostri ragazzi che stanno nel settore giovanile, perché l'anno scorso Bertola era il Giorgeschi o il benvenuto della situazione e oggi stiamo a parlare di Bertola, poi se ci fosse necessità a gennaio non ci terremo indietro di un intervento sicuramente, però i nostri ragazzi hanno bisogno di avere la fiducia e poi sono cresciuti con noi e il senso di appartenenza si vede anche da queste partite, è importante per la nostra squadra. Buongiorno Direttore, abbiamo già toccato praticamente quasi tutti i punti, vorrei entrare su qualche singolo, qualche volto nuovo che è arrivato, ho parlato dell'operazione QDA, sicuramente è un'ottima operazione perché vi ha portato anche un ragazzo, un attaccante esperto come Ciolac, ecco da questo punto di vista avete un reparto d'attacco con ragazzi che hanno quasi tutte caratteristiche diverse, 5 attaccanti a distruzioni d'angelo, quindi tanta competizione anche nel reparto, avete provato a prendere anche il ragazzo del Perugia, non so se ci può dire qualcosa anche a riguardo, se i discorsi sono stati spostati al mercato di gennaio, però ecco le chiedo il motivo della scelta di Ciolac, un ragazzo che ha segnato tanto ovunque e che ha tanta voglia di rilanciarsi allo Spezia, grazie. Sì, grazie Riccardo, l'operazione di Ciolac nasce l'operazione col Parma, nasce anche da una necessità purtroppo, avevamo un dubbio di quello che stava succedendo con Falcinelli, per quanto riguarda le presunte frasi che il ragazzo non ha mai detto e qua ci tengo a precisare, che Falcinelli è un ragazzo professionista serio, è un ragazzo sopra la media, non avrei mai detto quelle frasi, qualcuno che ha cercato di infangare il mio giocatore dovrebbe dire la verità, infatti le indagini hanno archiviato il caso, perché Diego Falcinelli innanzitutto è una persona per bene, inoltre che è un grandissimo calciatore e quando ci si approccia a certe situazioni che sono delicate non si può mettere a rischio un ragazzo con 10 giornate di squalifica o 12, avevamo paura perché c'era un precedente, quello che era successo con Marconi che con delle dichiarazioni ha avuto 10 giornate, quindi abbiamo cercato di tutelare una situazione che poteva anche non succedere come è successa, però la competitività in avanti fra le partite e infortuni e tutto quanto ci serve per non incorrere in situazioni come è successo l'anno scorso nella seconda parte del mercato di gennaio, dove di serio infortunato avevamo solo Falcinelli e Pio disponibili, poi i ragazzi sono tutti ragazzi per bene, ognuno avrà il suo spazio, questa è la scelta del mister, però già ieri ne sono entrati 4 in campo, quindi lo spazio ci sarà per tutti perché il mister è molto bravo in questa situazione qua e i ragazzi sono tutti con la voglia di giocare, competitivi ma corretti e leali e per il bene dello spazio Sono arrivati tre giocatori negli ultimi giorni di mercato, a parte Ciolac e Gori che li conosciamo già perché li abbiamo visti anche in questa categoria, raccontaci un po' qualcosa invece dell'altro ragazzo che è arrivato La lead di Giampada, sì, la lead è circa tre mesi che cercavamo di prenderlo, è un prospetto che deve avere un percorso di crescita, perché è un 2005, però già è più pronto rispetto ad altri giocatori, un'operazione diciamo alla Cuda più o meno, un ragazzo che viene da una situazione diversa, col tempo giusto di inserimento, di farlo crescere, di capire l'Italia anche solo l'italiano, però è cresciuto sempre nell'Everton e ci permette di avere un futuro, un giocatore credo importante per noi, ha delle qualità non come Cuda, è una mezzala di paleggio e inserimento, quindi ragazzo adesso abbiamo avuto la fortuna e bravura di toglierlo anche da altre squadre, in quanto era un anno alla scadenza del contratto e poterne essere una risorsa per noi Direttore buongiorno, io torno un attimo sull'infortunio di SAR per capire se c'è una previsione… Quando abbiamo parlato stanotte eravamo all'ospedale insieme con Falù, quindi con il professore Salini che domani opererà Falù, la diagnosi è tra i due e tre mesi e stiamo valutando con calma cosa fare perché abbiamo Gori, abbiamo Mascardi, ci rientra a breve anche Crespi, ci sono due soste nazionali, quindi sarebbero 7-8 partite che SAR salterebbe, quindi vediamo se è il caso di intervenire, stiamo facendo le lotazioni per dare un'alternativa, ma non abbiamo fretta perché abbiamo fiducia sia in Gori che in Mascardi ed essendo così ravvicinato il tempo di recupero e il rientro anche di Crespi e non vorremmo ingolfare e creare poi dei disequilibri che tocchino l'armonia della squadra. Buongiorno direttore, una cosa personale perché per lei è la sua quarta vita spezzina, possiamo dire questa, è arrivato con Mauro Meluso, ha lavorato con Riccardo Peccini, ha lavorato con Edoardo Massia fino a un mese, poco più tempo fa, adesso è il titolare del settore sportivo, è stato un percorso particolare, ha fatto la A, ha fatto la B, ha avuto richieste diverse da parte della proprietà, ha vissuto anche scenari diversi probabilmente, dal suo punto di vista personale è un po' il raggiungimento di un obiettivo oppure lo vede ancora semplicemente come una tappa di un lungo percorso? No, è una tappa di un lungo percorso, è un'opportunità importante e sono orgoglioso di poter essere il direttore sportivo dello Spezia, perché per me, come sapete, ero a Firenze e sono voluto ritornare a Spezia perché poteva essere una tappa importante e anche un po' casa per me. Poi ho fatto il primo periodo con Mauro al primo anno di Serie A, a cui sono grato eternamente e mi è servito come scuola, nel senso di essere vicino a professionisti come Meluso, Pecini e Massia, ha arricchito il mio bagaglio di conoscenze e adesso che mi è stato affidato questa responsabilità e questo con me è molto orgoglio, quelle conoscenze, più quello che io penso nella mia testa di poter ristrutturare, spero che servano per lo Spezia per fare bene. Che voto ti dai Stefano al mercato? No, voti non ne do io, a me mi interessa vedere i miei ragazzi, che per me sono il migliore di tutti, col mister è il migliore di tutti, che fino a 110 minuti siamo lì a portare a casa il risultato, poi a volte le potremo perdere, ma l'atteggiamento, l'attaccamento a volte è il senso di appartenenza che hanno questi ragazzi con il mister e tutti quanti insieme, ma anche con la società, dal presidente, da Cazzoli, da Peri, dal team manager, da Lorenzo, dai magazzinieri, si è creata un'unità di intenti molto forte e questo lo perceviamo anche grazie al supporto della nostra gente, perché l'anno scorso abbiamo vissuto una giornata difficile tutti quanti, a me e ancora me, ce l'ho segnata dentro, perché abbiamo avuto tutti paura e con la paura non dobbiamo perderla, dobbiamo sempre ricordarci di quello che è successo fino all'ultima giornata, però adesso siamo ripartiti con un gruppo forte, un gruppo unito dentro e fuori dal capo, sia come squadra sia come società, ognuno per le proprie competenze da il 110% ed è quello che ci interessa. Poi, diciamocelo chiaro, quando la gente è vicina a noi, noi a casa siamo 12, 13, forse 14. Stefano, a inizio campionato mister D'Angelo ha affermato che l'obiettivo dello Spezia è la salvezza, a giugno a dir la verità il presidente Platek aveva comunque sostenuto che l'obiettivo della Serie A comunque resta in testa in questa società. Volevo sapere se dopo questi interventi sul mercato, in particolare dopo l'arrivo di Ciolac, se si è alzata un po' l'asticella. Come dicevo prima, noi non dobbiamo dimenticarci l'anno scorso quello che abbiamo vissuto. Il nostro obiettivo primario è la salvezza. Poi dopo si vedrà quello che succede dove ho raggiunti… io in ufficio ho scritto meno 38, che sono i punti che mancano per la salvezza. Dopo si vedrà. Il presidente non parlava di Serie A, si vedrà di costruire un percorso per poter ritornare in Serie A. È un percorso che va costruito con la sofferenza dell'anno scorso e con quello che stiamo facendo adesso. Poi ci andremo, non ci andremo, ma non dobbiamo mai perdere il focus di quello che sono i nostri obiettivi primari, ma tenere la categoria, senso di appartenenza e poi dopo si vedrà quello che succede. Direttore, abbiamo visto in campo ieri sera alcuni giocatori che andavano un pochino a scartamento ridotto, proprio come velocità, come reattività, tipo oggi, bisogni a essere bene, anche per caratteristiche fisiche. Ora approfiterete della sosta per fare un attimino un punto su questo aspetto della preparazione. Sì, guardi, vabbè, Nagio ha giocato tutte le partite, probabilmente avendo così partire avvicinate ad agosto, col caldo, posto di preparazione, ci sta che uno sia stanco e possa avere un calo di rendimento. Bisneschi rientrava dopo un anno ed era la seconda partita di Figa in tre giorni, quindi va dato un adattamento. Abbiamo una rosa, secondo me, adesso con delle ottime alternative, perché per me non ci sono titolari lì sempre. Abbiamo 26 giocatori di movimento che possono giocare tutti quanti, più i portieri. Questo ci permette in queste due settimane di respirare un po' e di ripartire con un calendario regolare. Stefano, a proposito della domanda del collega, però il primo tempo viene a riconoscere assolutamente i meriti del Cesena, perché ci sono anche gli avversari sempre, non è che si può sempre fare quello che si vuole. No, no, io sposo a pieno quello che ha detto il mister. Abbiamo fatto un risultato importante, abbiamo fatto dovuto a carattere, determinazione. Non è stata la nostra migliore prestazione, ma la Serie B è questa. Ci sono anche le altre squadre, ci sono squadre forti. Noi però la cosa che dobbiamo focalizzarci è la mentalità della squadra. Purtroppo ci sta che una partita l'avversario sia più bravo di noi, perché se no succede anche a Real Madrid. Il primo tempo non è stato dei nostri migliori. Abbiamo sofferto tanto, però poi siamo rientrati e abbiamo rimesso in pista la partita. E questa è la cosa bella della nostra squadra. Grazie. Sì, direttore, classica domanda banale di fili a mercato. C'è qualcosina che avrebbe voluto fare e che non è riuscito a fare? No, abbiamo fatto tutto. Come dicevi tu prima, Seghetti, qui il nostro amministratore delegato, ci abbiamo provato fino alle 11 di sera, perché potevamo cogliere un'opportunità di un giovane richiesto da tanti. Il Perugia si era messo a disposizione, ma poi a un certo punto non c'erano più i tempi tecnici per poter fare questa operazione, perché ahimè, purtroppo c'era il mercato aperto e il Perugia giocava. Quindi c'erano delle problematiche anche di tempistiche sulla situazione. Non è neanche una questione economica, è proprio una questione di tempi tecnici, perché l'opportunità si è presentata nel tardo pomeriggio e poi purtroppo le dinamiche sono particolari. In quel caso avete un'opzione, qualcosa sul giocatore per il prossimo mercato? No, è un ragazzo che seguiamo, come seguiamo altri giovani. Lì era un'opportunità importante per noi, perché potevamo cogliere questa opportunità. Vediamo in seguito cosa succederà. Ultima domanda che ti voglio fare su questo ragazzo, che ieri si è preso anche la responsabilità di andare 10 minuti in porta. Mi sembra che sia un acquisto non solo dal punto di vista tecnico importante, ma anche dal punto di vista umano, perché probabilmente credo che sia un ragazzo veramente eccezionale, Soleri. Sì, diciamo noi quest'anno io insieme ad Andrea Gazzoli, quando siamo partiti anche nelle scelte precedenti, abbiamo prima scelto le persone, forse a volte con un po' di qualità in meno rispetto ad altri, ma soprattutto con una mentalità e un valore morale importante. Soleri è un ragazzo top, ha un senso, è stato già qui a Spezia, lo dimostra il fatto dell'attaccamento alla situazione, ma come Soleri abbiamo Risto, abbiamo Bandinelli, abbiamo Cassata, abbiamo Falcinelli, abbiamo Esposito, abbiamo tutti questi ragazzi che sono nella rosa con noi, hanno sposato al 100% Spezia, prima, perché molti, ne sono arrivati 5-6 adesso, però molti sono quelli dell'anno scorso, che da gennaio in poi abbiamo cominciato a fare un percorso col mister, è importante e ripeto, quello che ci è successo l'anno scorso, tutti quanti dentro ci hanno lasciato qualcosa.